Eccoci qua, oggi parliamo di un argomento molto importante, parliamo di export online del settore moda e abbigliamento perché secondo gli ultimi dati che leggevo oggi proprio in un articolo in una rivista di settore l'export del made in Italy, moda e abbigliamento, cresce tantissimo soprattutto attraverso i canali online in generale su tutte le esportazioni online di beni made in Italy che ammontano a circa 10 miliardi di euro il fashion la fa da padrona perché occupa il 65% delle esportazioni, siamo sopra i 6 miliardi di euro è molto importante questo perché ci fa capire come questo settore sia effettivamente il principale settore su cui l'attenzione del consumatore è orientata all'online, come l'online store sia fondamentalmente il luogo privilegiato per i consumatori e ci fa fare delle riflessioni altrettanto importanti sui mercati di riferimento perché al di là, adesso li vedremo in sequenza, però al di là dei mercati che sono quelli diciamo più tipici delle vendite made in Italy, ce ne sono altri che stanno crescendo e che stanno sviluppando un'attenzione particolare alla moda, all'abbigliamento ed in particolare al comparto del lusso nella classifica dei paesi più interessanti abbiamo chiaramente in Europa la Francia, la Germania, il Regno Unito la fanno da padroni, sono i mercati a cui vendiamo maggiormente i beni del comparto moda e abbigliamento crescono molto anche gli Stati Uniti d'America, anche se ovviamente inserirsi nel settore del digital export quindi delle vendite online negli Stati Uniti è molto complesso, richiede investimenti molto maggiori e poi c'è un altissimo grado di competitività tra le aziende per cui ovviamente il consiglio quando ci si affaccia poi agli Stati Uniti è quello anche di ragionare su servizi e su modelli di business sempre più innovativi. Però il dato estremamente importante è che sono cresciuti moltissimo anche altre economie come la Russia e la Cina. La Russia pur non essendo il principale mercato di sbocco dei beni del Made in Italy però è un mercato che cresce soprattutto nel settore moda e abbigliamento ed in particolare nel comparto calzaturiero e della pelletteria. Però la sorpresa è la Cina. La Cina è un paese su cui l'Italia sta puntando moltissimo lo abbiamo visto negli ultimi giorni con la visita del presidente cinese in Italia che ha aperto i negoziati della nuova via della seta che ovviamente hanno un impatto fondamentale sul commercio, sull'export verso la Cina però il dato estremamente importante, ritornando al fashion, è che i consumatori cinesi si stanno orientando molto all'online e sono molto pro acquisti anche del comparto del lusso quindi con le giuste strategie senza commettere errori di marketing o di comunicazione si può fare molto di più in Cina e aggredire una fetta di mercato, un segmento di clientela che è molto disposto a spendere cifre elevate per beni di lusso quindi mentre magari i marchi meno conosciuti farebbero fatica ad entrare in un mercato come la Cina però per i marchi più conosciuti del made in Italy si aprono delle praterie immense soprattutto perché, ripeto, il consumatore medio cinese è molto più disposto ad utilizzare l'online per acquistare beni di lusso quindi digital export per il fashion vedremo in un video che farò successivamente quali strategie si devono adottare quando si vuole sviluppare un e-commerce dedicato al fashion così come abbiamo fatto precedentemente per l'agroalimentare per non commettere errori di comunicazione ma anche proprio di costruzione del modello di business del proprio portale web per l'agroalimentare